Tre minatori sono morti, d'alti 13 sono rimasti intrappolati in una miniera a Shirvan, nel sud-est della Turchia. Sul posto sono giunte diverse ambulanze, mentre i soccorritori cercano di recuperare i corpi delle vittime. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe stato causato dal crollo improvviso di tratti di galleria durante un turno di notte.